Richiesta alla messa alla prova per Martino Di Tosto, il tifoso romano che era stato arrestato per rissa aggravata dopo gli scontri tra i tifosi della Roma e del Napoli lungo l'autosol dello scorso 8 gennaio. La richiesta è stata formulata oggi in aula da parte del suo difensore Lorenzo Contucci. Oggi abbiamo formulato la richiesta di ammissione alla messa alla prova, essendoci tutti quanti dei quesiti previsti dalla legge. Il giudice si è riservato sulla richiesta in attesa di poter portare un programma di trattamento idoneo per il recupero del nostro assistito e quindi ha rinviato a maggio per questo incombente e per l'eventuale ammissione della messa alla prova, che si tratta di lavori socialmente utili per ripagare il danno commesso. Martino Di Tosto, il tifoso 43enne della Roma, venne arrestato per rissa aggravata dopo gli scontri in A1 con i tifosi partenopei lo scorso 8 gennaio. Ferito durante la guerriglia, era stato soccorso presso l'ospedale di Arezzo a cui si era recato autonomamente. Il 43enne è ritenuto da IPM uno degli ideatori della modalità con cui i tifosi giallorossi si sono trovati e scontrati con quelli del Napoli all'altezza dell'autogrill di Badia Alpino. Nelle chat analizzate si parla dell'intenzione di andare nei pressi dell'autogrill per incontrare gli ultranapoletani. Durante l'udienza il difensore Lorenzo Contucci ha ricordato che il suo assistito è già stato raggiunto dal provvedimento di DASPO da parte del questore di Arezzo per 10 anni. Contestualmente ha chiesto anche la revoca delle misure cautelari, obbligo di firma e obbligo di presentazione all'ufficio di polizia giudiziaria. Su questo il PM si è opposto e il giudice si è riservato, aggiornando l'udienza al prossimo 12 di maggio. Sì, il giudice si è riservato. Abbiamo argomentato il fatto che ha ricevuto nel frattempo il DASPO con l'obbligo di firma, trattandosi di un soggetto che al limite può essere pericoloso per le manifestazioni sportive, quello è più che sufficiente per evitare che possano succedere in futuro episodi di questo tipo. Il DASPO riguarda tutti i luoghi di transito e di spostamento delle tifoserie, quindi stazioni ferroviarie, scale navali, scale aerei, quindi è più che sufficiente per poter fermare l'irruenza di una persona a 10 anni.